Alessandro F su Facebook. 21 marzo 2017 alle ore 22.04. Prima il sangue dei vinti, poi i gendarmi della memoria, infine, i partigiani erano belve che mettevano le bombe a mano nelle vaggine delle ausiliarie fasciste. Non sarebbe nemmeno da commentare un patetico omuncolo come Pansa, il classico, borghese piccolo piccolo, ma che queste cose le dica in prima serata nel programma della Gruber, di ieri sera, mentre gli argomenti erano altri, per vomitare letteralmente tutto il suo livore antipartigiano, è indecente. Indecente come la Gruber e come gli altri ospiti, tra i quali il sindaco di Pesaro, che non si sono sentiti in dovere di controbattere ad un simile ributtante revisionismo. Se l'Italia è alla 70 e passa posizione nella classifica della libertà di informazione, dietro persino al Burundi, questo ne è un elemento di conferma. In questo paese una generazione si è fatta ammazzare per la libertà anche di certi pseudo giornalisti, di parecchie istituzioni e persino di questi presunti storici, insigniti di motivati titoli alla scuola della menzogna. Per dirla come il compagno e amico Andrea Liparoto, fatevi sentire, scrivete alla redazione del programma della Gruber e dite quello che pensate di Panza.